Stazioni ferroviarie. Tra le 15 in Italia che saranno trasformate, unica in Piemonte, c'è quella di Arona. L'annuncio è dell'onorevole Alberto Gusmeroli. Verranno ristrutturati tutti gli spazi ora in stato di abbandono. La stazione di Arona tornerà a vivere e diventerà cuore pulsante della città. Spiega. Con fondi a carico di RFI, verranno recuperati gli spazi ora in disuso all'interno e attorno alla stazione. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi. Concessionari a Suzuki per il VCO. A piedi mulera.